Una buona serata ai telespettatori di Sail TV News. Come di consueto vediamo insieme il sommario con le notizie più importanti della giornata. Rapina a mano armata nella villa di Robi Facchinetti. Il leader dei Poo, i 35 minuti peggiori della mia vita. 22enne con precedenti arrestato in via autostrada, guidava un motorino rubato e aveva addosso 20 grammi di hashish pronti per la vendita. Auto prende fuoco in via San Giorgio, illesa la donna al volante, i vigili del fuoco sventano il pericolo di esplosione della bombola GPL. L'allarme delle mamme bergamasche, lasciate sole nelle ore successive al parto e riportate i papà in camera senza limiti d'orario. Atalanta, domani trasferta contro il Sassuolo. Gasperini, Sprona, Muriel e Zapata. Parliamo con la cronaca e i momenti di terrore per Robi Facchinetti, componente storico dei Poo e della sua famiglia, vittime di una rapina a mano armata. Sono stati 35 minuti di terrore quelli che Robi Facchinetti, lo storico cantante dei Poo, Bergamasco, ha vissuto domenica sera nella sua villa di Via Baioni, mentre si trovava con la moglie Giovanna e suo figlio Roberto. Tre uomini con passamontagne e pistole hanno fatto irruzione senza apparenti forzature. La squadra mobile ha il lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, ma stando alle prime indiscrezioni, pare che i tre abbiano intimato di farsi consegnare gli oggetti di valore e i gioielli di proprietà della famiglia. Ancora complicato stabilire il valore complessivo della refultiva e se i tre malviventi siano fuggiti anche con del denaro. Un colpo messo a segno apparentemente senza particolari sforzi che nasconde anche alcune ipotesi inquietanti. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un blizza pianificato da persone che conoscevano bene il luogo. Sapevano esattamente dove colpire, come accedere alla villa e addirittura il momento in cui farlo per andare a colpo sicuro. Nonostante la zona non certo periferica, la folta e alta siepe che protegge la proprietà, si tratta della seconda rapina che si verifica a Villa Facchinetti. Sei anni fa, sempre nel mese di febbraio, si era verificato un altro tentativo di furto con Francesco, l'altro figlio di Roby Facchinetti, che era riuscito a mettere in fuga un malvivente il quale aveva tentato il colpo. Nella mattinata di oggi il leader dei Poo ha voluto rassicurare i propri fan sul proprio profilo Facebook, con un post nel quale raccontava di aver passato i 35 minuti più brutti della sua vita, ringraziando tutti per la vicinanza e annunciando che, nonostante tutto, lui e la sua famiglia stanno bene. Un colpo messo a segno a pochi giorni dall'attesissima riunione dei Poo, che avverrà sul palco del Festival di Sanremo nella prima serata di lunedì 7 febbraio. Un episodio che conferma quanto comunicato con l'inizio dell'anno giudiziario a Bergamo. I furti in casa risultano più che raddoppiati, 53% rispetto all'anno scorso. Di questi ben 907 sono a carico di gnoti, in crescita anche le rapine, che registrano un più 17%. Parliamo ora di un 22enne con numerosi precedenti per furto, che è stato arrestato ieri mattina in via autostrada dalla polizia locale di Bergamo. Il giovane viaggiava su un motorino rubato, con la targa rubata, ad un altro motorino, con addosso Ascish pronto alla vendita, una carta di credito rubata e due borse da donna, anche queste rubate. Il furto di motorino era stato denunciato ai carabiniere di Albino lo scorso 9 gennaio. Dalla targa invece era stato denunciato il furto alla questura di Bergamo lo scorso 24 gennaio. Sempre durante la perquisizione, la polizia locale ha trovato addosso al ragazzo al 22enne 20 grammi di Ascish, già suddivisi in dosi e pronti per essere venduti. E' una carta di credito di cui era stato denunciato lo sbarrimento lo scorso 23 gennaio. Parliamo ancora di arresti per droga. Siamo a Dalmine, un uomo e una donna sono stati arrestati da una pattuglia della questura di Bergamo nei pressi del casello autostradale. La coppia di italiani è stata fermata in automobile per un normale controllo, ma dall'abitacolo arrivava un forte odore di Ascish. La perquisizione ha portato infatti al rivenire sotto il sedile un sacchetto di sostanza stupefacente del peso di 3 kg e 650 grammi. Successive perquisizioni nelle abitazioni hanno permesso di sequestrare ulteriori 12 kg di sostanza tipo Ascish, 135 grammi di cocaina, 185 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Nella giornata di ieri il giudice delle indagini preliminari di Bergamo ha convalidato gli arresti disponendo appunto gli arresti domiciliari per l'uomo e pure l'obbligo di dimora per la donna. Parliamo ora di un'auto. Questa mattina che ha preso fuoco in via San Giorgio a Bergamo. Per fortuna la donna, la conducente, illesa. Ha avuto la prontezza di accostare, fermarsi e uscire di corsa dall'auto prima che prendesse fuoco. È successo questa mattina poco prima delle 9 in via San Giorgio. La donna al volante si accorta che qualcosa non andava nella sua lancia Ypsilon a GPL e quando ha avvertito odore di fumo nell'abitacolo si è subito fermata, poco dopo l'incrocio di via Baschenis. Dal cofano si sono sprigionate le fiamme e un'alta colonna di fumo nero, raccontano i testimoni. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio. Stavo guidando, andando al lavoro, si è spenta un paio di volte, alla terza volta che l'ho riaccesa, non è partita bene e all'introviso ho sentito odore di bruciato, ho guardato davanti, ho visto del fumo, ho accostato subito, sono scesa di corsa, ho chiamato i vigili del fuoco. Ha preso fuoco, ha preso fuoco. Non mentre io ero a bordo, le fiamme non si erano ancora sviluppate, intanto fumava e basta. Ha preso fuoco nel tempo in cui sono arrivati i vigili del fuoco, era una fiamma unica. Ero preoccupatissima perché è un veicolo GPL. Deve esplodere. È una macchina del 2010, revisionata, tagliandata, bombola sostituita secondo normativa. Non so cosa sia successo. Sul posto una volante della polizia che ha inizialmente bloccato la strada per agevolare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell'area circostante, poi riaperta a senso alternato visto il lungo incolonamento causato nell'ora di punta. Parliamo ora del parto, un momento particolare per le donne e anche per le coppie. Un momento bello, ma ora vediamo nel dopo parto quello che succede in vari ospedali della Bergamasca, non con le stesse modalità. La recente morte di un neonato in un ospedale di Roma, forse soffocato involontariamente dalla madre, ha acceso un dibattito molto caldo anche a Bergamo tra le neomamme che hanno partorito negli ospedali della nostra provincia. Sul banco degli imputati il nuovo modello organizzativo promosso dall'OMS, nominato Rooming In, che prevede di lasciare sin dalle prime ore di vita il neonato in camera con la madre e non più al nido, affidandole la piena gestione così da favorire in particolar modo l'allattamento al seno. Tanti i benefici, senza dubbio, ma un problema anche piuttosto serio esiste. Il fatto che l'evento nascita sia considerato un evento salute, spesso ha fatto sì che ci sia un'organizzazione, una dotazione di risorse di ostetriche insufficiente. Il Rooming In è consigliato e deve essere proposto alle mamme, ma non tutte hanno avuto una buona esperienza. Ho chiamato l'infermiera di turno, non so se era un'ostetrica o un'infermiera di turno, dicendo guarda io non so cosa devo fare, non me la piangi, non le so a calmarla. E lei mi ha risposto una cosa come, eh signora si prepari, ne avrà tante di notte così davanti da traversare. Io era nata tipo da meno di 24 ore. Mi ricordo la sensazione di totale abbandono. Per esperienza posso dire che ad oggi gravidanza, parto, corpo e riallattamento hanno un filo conduttore che purtroppo è la solitudine. Non possiamo sperare che la gente faccia figli se non danno giusto sostegno. Dall'altra la questione visita parenti. Il Covid, come in tutti gli altri reparti, ha fortemente ridotto la possibilità di accedere in ospedale. Ma se subito dopo il periodo clou della pandemia si poteva capire la scelta, consigliata da Regione Lombardia, vallata da molte strutture, Ad oggi le restrizioni lasciano perplessi. Al Papa Giovanni di Bergamo può entrare una sola persona, sempre la stessa, per due ore e mezza al giorno in una fascia pomeridiana. Asseriate due fasce orarie in cui una sola persona, la medesima, può far visita dalle 13 alle 13.45 e dalle 19 alle 19.45. Infine Treviglio, dove le visite sono consentite dalle 15 alle 20. Proprio in questi giorni Regione Lombardia ha dato libertà agli ospedali di consentire le visite ad una persona in un tempo illimitato, anche notturno, alle neomamme. Un'indicazione che mette alle strette gli ospedali. Accoglieranno la richiesta o meno. Secondo le linee guida, il ruolo del padre è cruciale. Il papà è parte delle cure della donna. E l'appello delle mamme è forte. Secondo me dovrebbero fare delle camere singole in cui il padre può restare a dormire tutti insieme e nel caso il parente e la mamma, che avendo appena partito, ha bisogno di un po' di assistenza. Si chiamano gruppi di mutuo aiuto. È stato aperto un bando con 60.000 euro a disposizione per i più fragili. I gruppi di mutuo aiuto a Bergamo sono più di un centinaio. gestiti prevalentemente da volontari e senza grandi risorse economiche. La pandemia e la crisi globale hanno reso più urgente prevedere aiuti e soluzioni per i più fragili. Da qui il bando AMA 2023, presentato questa mattina e finanziato da Faces, FIEB e Caritas, che destina 60.000 euro a progetti di sostegno di chi è in difficoltà. Contiamo di lungere da stimolo, di accompagnamento e di promozione di quelle che sono anche nuove realtà, nuove idee legate a questo settore specifico. Un sostegno che non riusciamo a dare in questo anno può essere un contributo e un sigilo importante. Mette al centro un'idea nuova anche di legame sociale sul territorio, che valorizza la prossimità e la reciprocità. E dopo il Covid credo che ci sia profondamente bisogno di questo ritorno a creare legami sociali sul territorio e quindi ad aiutare chi aiuta. I progetti selezionati, che non dovranno avere un costo superiore a 10.000 euro, verranno finanziati fino all'80% del costo globale e comunque in misura non superiore a 5.000 euro. Le domande per accedere al bando dovranno essere inviate all'indirizzo bandi-fondazione-azanelli-cedrelli.it entro le ore 12 del 10 marzo 2023. Ai soggetti selezionati verrà inviata una lettera di comunicazione entro il 31 marzo 2023. Sono stati iniziati nell'area dell'ex Dogana in via Rovelli i lavori per realizzare la nuova area di sosta per i bus turistici che fino ad ora sostavano in via Grattaroli di fronte all'Accademia della Guardia di Finanza. Una mossa che consentirà al Comune di creare nuovi stalli di sosta gratuiti, soprattutto a favore dei residenti del quartiere di Santa Lucia e di consentire ai turisti di essere più vicini alla stazione e al centro città. Parliamo ora di varie associazioni del volontariato che hanno messo a disposizione 40.000 euro contro il divario digitale. Si chiama iFamily ed è il progetto del Comune di Treviolo per ridurre il divario digitale che a causa dell'età, dell'istruzione o del difficile accesso ad internet colpisce una parte della popolazione. Nel questionario somministrato ad un campione di cittadini risulta che solo poco più della metà degli intervistati abbia dimestichezza con le piattaforme della pubblica amministrazione, trasmetta pratiche o effettui pagamenti online. Il progetto, dal valore di 40.000 euro finanziati da Regione Lombardia, ha l'obiettivo di ridurre questo gap attraverso tre workshop sulla digitalizzazione. Il primo, nella serata di ieri, è stato introdotto da un video della Ministra alla disabilità. Stiamo passando un momento molto particolare perché questo post-pandemia ci ha fatto diventare tutti più digitali. Abbiamo imparato cosa è il QR code, cosa è una videoconferenza, cosa è speed, cosa vuol dire parlare online con la pubblica amministrazione. Le città stanno accelerando nell'erogare servizi digitali, ma stanno creando anche fratture con persone che non riescono a stare al passo. Quindi stiamo combattendo contro queste nuove barriere architettoniche digitali per colmare questo gap e far sì che i nuovi progetti digitali siano inclusivi. Quindi si parla anche di tutele, di sicurezza, di una dimensione di utilizzo che possa davvero rendere migliore la qualità della vita, quindi anche gli aspetti innovativi che possono davvero essere utili nella vita quotidiana per tante persone, ma anche per un utilizzo che sia di buon senso e sicuro per tutti. Sempre con l'obiettivo di ridurre il divario digitale, l'11 febbraio il Comune di Treviolo e l'Associazione Miglior Attivamente organizzeranno uno Speed Day, ossia una giornata dedicata al rilascio gratuito di speed ad adulti e minori dai 5 ai 17 anni. L'iniziativa è rivolta anche ai cittadini di altri comuni. È due anni che eroghiamo Speed e in questi due anni non c'è stato un solo appuntamento del nostro sportello digitale o del nostro ufficio anagrafe, che sono i due soggetti che erogano Speed, vuoto. Per cui cerchiamo questa volta di uscire dal Comune e di essere noi a portare Speed ai cittadini e quindi saremo proprio presenti con dei presidi in ogni frazione del Comune, proprio perché gli anziani che magari non riescono a spostarsi possono accedere a questi presidi in modo più semplice. E ora una notizia sicuramente curiosa e interessante per chi sta cercando lavoro, cercasi disperatamente autisti e meccanici. Compenso, pensate di tutto rispetto, 2.400 euro in netti al mese, più bonus per le professionalità che possono arrivare anche a 5.000 euro all'anno. Questa è l'offerta del gruppo Mascio di Mornico, specializzata nel movimento a terra. Insieme ai meccanici, quelle degli autisti, sono figure professionali quasi introvabili e l'azienda si è rivolta anche ai social per diffondere la richiesta di personale. Sui vari Facebook, Instagram e TikTok sono gli stessi autisti, già in organico, a farsi testimonial dell'offerta di lavoro. La tipologia di contratto è a tempo indeterminato. Ci fermiamo per qualche consiglio pubblicitario, ci ritroveremo con le notizie legate all'Atalanta. Ben ritrovati con le notizie di Seila TV News. L'Atalanta, dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter, affronterà domani sera il Sassuolo fuori casa. Ecco il Gasperini pensiero nella conferenza pre-partita. Noi senza il miglior Murri, il miglior Zapata andiamo da nessuna parte. Non abbiamo possibilità di raggiungere traguardi importanti. Abbiamo bisogno che loro due, ma posso aggiungere anche Pasalic, per rimanere in quel reparto, stiano bene, siano in grado di dare un apporto importantissimo. perché nel calcio quello che è vero oggi, dopo magari una settimana o due settimane, ricambia. È tutto molto dinamico, non c'è mai niente di statico. Questa è una squadra che non può sopportare sempre un tridente, come abbiamo fatto assolutamente, a secondo delle partite, perché alcune caratteristiche sono abbastanza leggere, soprattutto nella fase difensiva. Qualche volta si può fare, qualche volta no. Queste sono valutazioni mie. Ma si tende a volere qualcosa sempre di statico, ma il calcio per fortuna non è così. Zappacosta potrebbe rientrare la prossima settimana, da lunedì. E Palomino anche abbastanza... Lui è una settimana in ritardo rispetto a Zappacosta, però è anche in anticipo un po' sul programma. Quindi bisogna stare giustamente cauti, però i tempi sono questi per tutti e due. Il mio gestire le forze è una cosa che non... Faccio fatica, ma oltretutto con la Lazio si giocherà una settimana dopo. Questa storia è sempre di gestire una partita all'altra. Sono tutti ragazzi sani che possono giocare anche ogni tre giorni senza nessun problema. Figurati da una settimana all'altra. Col Sassuolo mi aspetta una partita contro... Ci conosciamo, noi conosciamo loro, loro conoscono bene noi, ci siamo già affrontati tante volte, sappiamo... Adesso loro hanno cambiato qualcosina con l'ultimo mercato, e quindi... Però l'impianto della squadra è quello, le caratteristiche... L'Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record dell'Atalanta precedente. Non so se ne è rimasto qualcuno in piedi. Dipende sempre da... E' certo che non è che l'Atalanta aveva 30 scudetti, 20 scudetti... No, è riuscita, se vogliamo, a raggiungere quello della Coppa Italia. Ha fatto due finali, non è riuscita. Che è l'unica Coppa che è stata vinta nel 1963, no? Tutti gli altri sono stati polverizzati. Io spero che in futuro l'Atalanta possa fare ancora meglio. Però questi sono vittorie. Chi meglio di Patrizio Romano può darci le ultime dei campi, e anche su Atalanta, su Sassuolo, Atalanta. A te Patrizio. Sì, ciao Luca, grazie, grazie per la linea. Mi trovo già nello studio di Seila Dea Anteprima, pronto ad allacciare questo nuovo appuntamento alle 20, poi replica alle 23 questa sera, ulteriore replica domani alle 12.30. Proprio domani, domani sera alle 20.45, ci sarà la sfida dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. Reggio Emilia al Mappei Stadium. Sassuolo reduce dal 5 a 2 in campionato. Roboante, vittoria Roboante contro il Milan, campione d'Italia, quindi squadra da prendere assolutamente con le pinze. Qui vediamo già il programma della ventunesima giornata, programma che vedrà già tre partite domani, arriverà fino a martedì 7 febbraio con il posticipo dei posticipi, quello tra Salernitana e Juventus. Vediamo quale potrebbe essere la formazione in campo domani sera contro il Sassuolo. Noi di Seila Dea, qui su Seila TV, saremo in onda a partire alle 20.15. Prevediamo questo 3-4-3 con i soliti punti di domanda che sono d'obbligo. Musso tra i pali, Toloi, Jim City e Scalvini in difesa, Borgeron, Cobmeiners e Mele in mediana, con il tridente che spesso rifiniamo delle meraviglie, Lukman, Oilund, Bogat. Insomma, tutto questo domani sera. Siamo molto interessati anche a capire se ci sarà un recupero anche mentale dopo il contraccolpo della Coppa Italia da parte dell'Atalanta. Noi siamo certi che l'Atalanta ce la metterà tutta per rimanere in zona Champions League. In questo momento l'Atalanta è quarta alle spalle del Napoli e dell'Inter, oltre a essere in compagnia di Lazio e Milan, però per la differenza reti è davanti al Milan. Insomma, siamo in una posizione sicuramente molto, molto favorevole, però mancano ancora tantissime giornate al termine del torneo. Al momento è tutto, ci vediamo alle 20 con Seila Dea Anteprima. La linea che torna a te, Luca. E quindi rimanete sul 94 di Seila TV con Patrizio Romano che avrà nella sua anteprima anche un'intervista a Xavier Jacobelli, grande direttore, grande giornalista e tifoso, super tifoso della Dea. Notizie ore per quanto riguarda la Serie C, l'Albino Lefe che torna in campo domani a Zanica per affrontare la Triestina dopo il KO esterno di Lecco subito mercoledì nel turno infrasettimanale. Novità sull'orario del match che non si risputerà alle 17.30, come annunciato inizialmente, ma alle 14.30. I blu celeste sono chiamati a difendere i tre punti di vantaggio sulla zona play-out. Di fronte a loro l'ultima in classifica che è la disperata ricerca di punti. E ora spazio al meteo. Cosa succederà nei cieli di Bergamo? Ce lo dice 3B Meteo. Un saluto ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto di alta pressione su gran parte del nostro territorio, eccetto al sud, dove avremo un po' di variabilità con dei rovesci a carattere sparso. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa in Lombardia per la giornata di sabato che sarà l'insegna del bel tempo con temperature massime. Decisamente oltre la media per venti di Fön valori anche fino ai 20 gradi da segnalare a fine giornata qualche fiocco di neve sulle Alpi di Confine. Poi per la giornata di domenica, situazione analoga, il sole continuerà ad essere il protagonista da segnalare però un calo delle temperature per venti freddi da nord. Valori quindi non oltre i 10 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo, giornata di sabato stabile, non mancheranno ampi spazi soleggiati, temperature massime che raggiungeranno i 15-19 gradi. Valori in calo per la giornata di domenica, temperature che non andranno al di sopra dei 7-10 gradi, il tutto però in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. E infine diamo un accenno anche alla tendenza prevista per le prossime giornate perché l'alta pressione continuerà ad interessare la provincia per gran parte nella nuova settimana, ma con temperature che tenderanno a diminuire sia nelle minime che nelle massime. Tutti i dettagli, come sempre, scaricando l'app di Trevi Meteo. Nessun'altra nuova notizia? Le vostre segnalazioni a redazione chiocciola.seilatv.tv Una buona serata a tutti!